Musacchio Moretti da terra, Guberti li passa davanti Si riprende il pallone Fa correre a destra Mustacchio Accelera sul Laverone, cross in mezzo Di Carmine, doppietta all'andata Doppietta anche nel girone di ritorno L'Avellino è sotto di due gol Perugia 2, Avellino 0 Terranova Si abbassa, riceve poi in verticale Di Carmine, posizione regolare Samuel Di Carmine, ancora Samuel Di Carmine per la terza volta Cartellino rosso Per Cim City Si butta dentro Terrani Riceve, la mette sul secondo palo Di Carmine, il palo E poi il pallone che finisce in porta Arriva il quarto gol Della Perugia Dezzi prova a piazzarla Ricci riceve, ancora fuori per Di Carmine Prova con l'esterno e poi Terrani E il pallone che finisce in porta Il primo gol in carriera in Serie B Per Giovanni Terrani Tempo scaduto Il Perugia travolge L'Avellino Al partenio vince 5 a 0 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti